Sono durate quattro ore dalle 16 alle 20 le operazioni di spegnimento del grosso incendio di vegetazione che ha coinvolto un'area compresa tra Santa Cesaria Terme e Portobadisco nel pomeriggio di mercoledì 28 agosto. A domare le fiamme i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, coordinati dal direttore delle operazioni di spegnimento giunti dal distaccamento di maglie, in ausilio dei caschi rossi erano presenti un autobot, tre squadre di protezione civile e una squadra Arif. Al massiccio intervento da terra si è aggiunto anche quello per via aerea di un Canada il partito dalla Mezzia Terme il quale ha effettuato 17 lanci. L'incendio divampato in circostanze ancora da chiarire ma col sospetto che si tratti di un atto doloso ha coinvolto 17 ettari di macchia mediterranea ad alto fusto, il propagarsi delle fiamme ha minacciato anche un agriturismo Lecapase che è stato prontamente evacuato e messo in sicurezza dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento. La zona era già stata teatro di un grave incendio avvenuto lo scorso 3 agosto.